bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questa nuova live sono un po' ingiovanito sbarbato e con i capelli corti ragazzi non vi posso vedere quando guardo questa foto non mi riconosco comunque vabbè ragazzi allora l'ascoltito ma ce l'ha troppo caldo e tra un po' di giorni penso che cresceranno come sempre ci sottavano sapete di questa in questo periodo allora intanto ciao a tutti benvenuti in questa live fatemi sapere se si sente tutto ok anche a livello insomma di microfono di audio eccetera e ovviamente come state ragazzi non ci vediamo dalla settimana scorsa ci sono state alcune novità sui mercati soprattutto il dato di ieri dell'inflazione americana che è superiore all'attese ma non così superiore tale per cui insomma diventa poi un problema è proprio di questo che parliamo anche oggi ok insomma ok danna mi dice anche perché mi sono salito i capelli si sono sparito 48 ore perché c'è stato il degespugliatore che mi tagliava il capello e quindi insomma ci è voluto veramente un po' un po' di tempo allora ciao Enrico si sente non benissimo ma accettabile vediamo se c'è qualcosa che va nelle impostazioni audio mi sembra un po' basso in effetti il volume ma non so se è possibile modificarlo ma mi sa proprio di no da questa applicazione vediamo un poco allora ragazzi facciamo così provo a fare questa cosa qui allora vediamo vediamo ora dovrebbe andare molto meglio ragazzi fatemi sapere se va meglio adesso perché dovrei aver riacceso il microfono quello vero quello è buono ok si adesso va meglio ok allora perfetto va bene ragazze la ci siamo e siamo insomma siamo qui in in live tra le altre cose bitcoin oggi sta un po' performando meglio ma il rimbalzo ha iniziato ieri perché è stato chiuso probabilmente un ciclo secondo me mancano un ultimo 15 giorni 10-12 giorni ne parliamo anche oggi in fatto analizziamo tasso di infrazione che cosa è successo a livello macroeconomico dominanza e grafico di nasda 100 poi andiamo a vedere un briefing leggero sulla questione ciclica e poi ragazzi vi mostro qualche coin qualche cripto alla fine della live che interessante molto interessante che sto monitorando in questi giorni e quindi rivediamo poi alla alla fine intanto buttate giù qualche domanda se già l'avete allora nico sei andato sono andato short sul capello e ho fatto gain perché sono quello diciamo non è vabbè è andato un po' così ragazzi vabbè si vola a tre ck come tre ck si vola a tre ck si crolla al massimo ok ciao benvenuto benvenuto a tutti ragazzi e bentornati qui va bene allora io inizierei anche perché sarà una live leggermente più veloce e quindi inizierei ragazzi con un'analisi della questione del dato della dell'inflazione usa allora l'inflazione è stata leggermente superiore alle stime ragazzi mai così alta però dalla effettivamente dalla da 40 anni circa questo è il dato insomma lo trovate su tutti i giornali comunque è semplicemente eh eh il nove e dieci invece era atteso il ehm in sostanza il l'otto e otto ragazzi zero punto tre allora eh impariamo anche a ragionare su questa cosa ehm è uno spasamento del tasso di inflazione del tre per cento rispetto alle attese quindi eh non è una cosa così a benorme questo è il discorso in sostanza un po' il mercato si attendeva un dato mh simile al nove per cento quindi è arrivato al nove eh e punto uno invece dell'otto punto otto non cambia niente perché eh una cosa è l'inflazione all'uno e uno punto due ragazzi una cosa è l'inflazione al nove nove punto uno no perché il decimale in questione ha un impatto molto più ridotto su un numero che è quasi il dieci per cento insomma vabbè quello che invece ha un significato molto più rilevante è il fatto che siamo al massimo dell'inflazione eh da eh circa quarant'anni allora primo punto ehm in questione eh perché siamo arrivati a questa storia perché è mh ragazzi eh un dato sinceramente mh non strano in quanto probabilmente allora qui insomma si entra poi nei famosi complottismi in quelli che sono le le opinioni facciamo così ragioniamo in termini di domanda così poi voi vi date le risposte eh se io ho una delle maggiori economie del mondo come la più grande del mondo come gli Stati Uniti e una delle più grandi come l'Europa eh che hanno prodotto i più grandi economisti della storia da sempre eh che spiegano che l'introduzione di tassi, sanzioni, allenazioni e costi impattanti soprattutto sui trasporti e le materie prime impattano in maniera poi negativa eh con spirali rialzisti dei tassi di inflazione e l'hanno rappresentati con modelli matematici da quarant'anni e l'hanno studiati con premi Nobel eccetera da quarant'anni mi viene difficile non pensare che questo tipo di dato non fosse ehm atteso da chi queste sanzioni e questi tassi e tutto l'Ambaradam lo ha fatto ragazzi allora non è che ci vuole cioè insomma se se l'hanno abbiamo inventato a noi diciamo questo mh studio scientifico macro della macroeconomia e adesso eh ci viene un po' il dubbio che l'introduzione di tassi su materie prime e quant'altro sanzioni non eh sarebbe stato un'arma a doppio taglio cioè era è studiato è riprovato da quarant'anni cioè esiste questa cosa ragazzi non 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 è una novità è scienza è scienza dell'economia lo trovate dappertutto una cosa del genere che trovate potete leggerlo voi stessi nei libri di macroeconomia adesso a me viene strano che i capi di stato i più grandi uomini politici non fossero a conoscenza di questo problema ma ma davvero ma ma guarda guarda un po' vabbè allora detto questo eh io penso che ehm penso che la questione sia da ehm ragionare infatti in base alla sostanza che questa inflazione fosse voluta ragazzi secondo me eh un po' per ricalibrare tutto il mondo occidentale verso una nuova fase totale dopo la pandemia cioè una nuova fase che è quella che abbiamo visto probabilmente tassi crescenti inflazione galoppante svalutazione e dei salari reali non so se qualcuno di voi sa cosa significa e ehm impatta anche una cosa del genere sul PIL ragazzi perché l'inflazione aumenta anche la produzione aumenta il PIL tutti quelli che saranno le imprese che sono in questo momento svantaggiate quello che volete ma un domani che sono in grado di modificare la leva del prezzo eh usciranno da questa situazione indenni o addirittura in guadagno mentre tutti quelli che sono le forze deboli in sostanza i dipendenti e chi ha salari fissi usciranno fortemente indeboliti da questo tipo di struttura tutti i possessori di ehm e beni reali come le le stocks in teoria e quello l'abbiamo visto l'anno scorso non quest'anno e tutti i possessori di beni fisici come eh aziende industrie e eh immobili eh giacimenti di petrolio di oro e quant'altro ne usciranno più ricchi perché i loro valori cresceranno di prezzo ora questo è quello che fa l'inflazione ragazzi ehm non è un'opinione io qua lo dico qui non è se qualcuno di voi mi viene a dire che l'inflazione non fa questo poi mi spiega perché come quando quindi l'inflazione impoverisce i dipendenti e i chi ha non ha il controllo del salario ehm e quindi della propria leva di salario poi magari si possono livellare ma in sostanza si livellano con molta di difficoltà in pratica ragazzi l'inflazione dà un boom un boost alla fase produttiva nei prossimi anni e eh impatta ehm invece in maniera eh nel breve periodo in maniera negativa attraverso la recessione perché questo avviene perché la banca centrale eh va a togliere il denaro dai mercati toglie il denaro dal mondo prima o poi la spesa al consumo si fermerà i lavori di ristrutturazione sviluppo nuove industrie sviluppo nuove business si devono fermare perché non ci sono più i dindini l'indebitamento costerà molto di più eh quello nuovo quello vecchio costa di meno eh a meno che non è a tasso variabile cioè quindi si svaluta in termini reali il debito per esempio degli stati ehm e eh però eh se è invece a variabile se è un debito che si paga a tassi variabili no quindi i famosi cct in Italia per esempio ragazzi o i buoni ehm gli ultimi e BTP futura quelli che erano linkati all'inflazione in Italia per esempio quelli non subiscono alcune differenze perché si linkano nel tasso di inflazione eh quindi in linea di massima ragazzi eh questo è quello eh a cui andremo incontro eh inflazione al 9% nel breve periodo significa recessione eh praticamente certa matematica entro pochissimi mesi questo impatterà sulle economie più deboli tra cui l'euro ragazzi perché le economie più deboli sono quelle europee di quelle ricche intendiamoci per questo motivo è crollato il rapporto cambio euro dollaro ragazzi perché si è svalutato il valore dell'intera economia europea e c'è anche un po' problema politico perché abbiamo perso anche a livello politico eh una guida importante che in Europa era quella della Germania della Merkel eh con personaggi politici che non hanno lo stesso spessore carismatico e quant'altro quindi c'è proprio una questione di riequilibrio della struttura eh euro dollaro se volete adesso lo vediamo teoricamente ha un maxiciclo da trentadue anni ribassista che in teoria quindi ragazzi dovrebbe impattare negativamente sul cambio europeo addirittura portandolo sotto i minimi storici questo eh ovviamente su previsioni di trentadue anni capite bene eh bisogna andare con i piedi di piombo però la questione c'è ora bitcoin in tutto ciò sappiamo che eh ne abbiamo parlato in nei giorni scorsi ragazzi allora i mercati e le cripto non sono esenti dalla questione ehm ehm dei mercati finanziari quindi non sono scollegati sono correlati però è anche vero che c'è un punto limite di questo ne abbiamo già parlato riprendete i miei video e ve ne ho spiegate queste cose c'è un punto limite perché perché in teoria ed in realtà bitcoin è comunque un asset anti inflattivo quindi teoricamente si muove come un asset growth e quindi un asset tecnologico però ha anche all'interno una sua struttura che comunque è contraria all'inflazione questo discorso un po' fa effetto tampone quindi da una parte sciacquore iniziale come quello che abbiamo visto poi si ci rende conto che comunque i mercati cripto ragazzi della recessione non gliene frega una accidente perché i mercati cripto non producono in questo momento pil eh che può impattare a livello di recessione cioè non sono un'azienda ciclica come non so i produttori di energia o altro ehm quindi nel business nel mercato delle cripto la recessione conta tanto e non quanto anzi praticamente non conta perché in sostanza il business che produce più reddito di tutti nelle criptovalute in questo momento è il trading e quindi gli exchange quelle business che sta facendo utili quindi le figlie attraverso le commissioni che in teoria durante le fasi recessive aumenta non diminuisce quindi ehm non c'è una grande problematica in base al discorso della recessione la problematica principale che i mercati e le cripto stanno affrontando è il fatto che la fed sta togliendo i soldi ragazzi quindi questo è il problema delle cripto mentre nell'economia reale c'è una duplice effetto da una parte i soldi in meno dall'altra la fase recessiva però poi l'economia reale sa che è una fase di perinflazione se è gestita bene e controllata poi susseguono degli anni positivi fra qualche annetto ehm questa fa questa fase qui eh nel mercato delle cripto a un certo punto ragazzi dovrà eh uscire fuori no dovrà uscire fuori il fatto che ehm non ha nessun senso il problema della recessione quindi quando la banca centrale europea e la scusate la federal reserve così come anche la banca centrale europea eh arriverà a un punto tale per cui dice ok i tassi eh non li alziamo più oppure iniziamo a alzarli man mano il mercato cripto ragazzi non avranno più problemi da questo punto di vista perché in realtà il vero vero problema dei mercati cripto è il rialzo dei tassi di interesse in questa fase ora 9.1 invece di 8.8 avete visto la reazione di bitcoin immediatamente flash crash per la correlazione con i mercati classici dopodiché recupero perché recupero perché in realtà ragazzi non è un'inflazione al 10.6 perché il problema che il mercato secondo me si aspettava una infrazione molto peggio delle attese nel momento in cui hanno visto che in teoria è la stessa di quella che si ci aspettava questo significa che la federal reserve farà la sua politica più o meno come il mercato attendeva un rialzo di 0.75 un punto percentuale nel prossimo riunione cioè era scontata questa news cosa succede a quel punto che i mercati delle cripto recuperano un po' e si riportano allo stesso identico livello di prima della uscita delle news questo sempre per il discorso ragazzi che le news non servono a niente perché in sostanza sono già scontate dal mercato questa era una delle news più importanti dell'intero 2022 ragazzi e avete visto che praticamente non ha avuto alcun tipo di impatto va bene quindi la diciamo questo perché perché c'è sempre la valutazione del dato quindi è vero la questione dell'inflazione è più alta delle attese ma è un più alto tutto sommato non troppo alto il mercato pensava peggio questo è l'idea di fondo probabilmente le prossime riunioni sui mercati delle cripto avranno molto più impatto cioè i prossimi dati sulle inflazioni perché perché se i prossimi dati sulle inflazioni dimostrano che nonostante tutti i rialzi di tassi la banca centrale la fed non riesce a farla scendere questo tasso di inflazione allora lì è un problema quindi si dovrà controllare soprattutto il tasso di inflazione del prossimo trimestre rapportato a questo trimestre cioè il tasso di accelerazione decelerazione dell'inflazione non il tasso assoluto perché il tasso assoluto i mercati lo guarderanno tanto e non quanto quindi se il prossimo trimestre dimostra che l'inflazione sta girando a ribasso allora i mercati tireranno un sospiro di sollievo questo secondo me è il modo di vederla da un punto di vista dei mercati cripto non mercati mercati tutto un altro discorso è più complesso lì va bene quindi questo è il motivo del perché insomma bitcoin così ora questo significa da qui non scendiamo più assolutamente no significa che l'impatto del dato dell'inflazione nei mercati cripto non c'è questo non c'è c'è il prossimo la prossima comunicazione deve indicare una leggera riduzione di questo tasso e insomma questo argomento verrà bypassato verrà in pratica messo da parte e fino ai giochi insomma ragazzi questo è il discorso probabilmente restano ferme tutte le considerazioni cicliche invece che abbiamo fatto in tutti i video di cui adesso andiamo a fare un discorso perché in questa è una fase che probabilmente il mercato di bitcoin delle cripto ha un nuovo ciclo e il ciclo essendo che spinge in una sua fase positiva fa vedere le notizie al mercato tutte belle però ancora noi non abbiamo idea se il ciclo annuale di bitcoin sia chiuso o meno ragazzi anzi in teoria non dovrebbe essere così questo significa che probabilmente nei prossimi mesi la questione dovrà comunque essere sarà rimessa comunque in gioco la questione delle oscillazioni dei prezzi ma non dipenderà dai tassi di inflazione questo è il discorso di cui vi sto parlando quindi la l'andamento della tasso di inflazione e del risultato del tasso di inflazione sui mercati delle cripto secondo me seguirà il prossimo la prossima indicazione e soprattutto seguirà l'andamento su questo trimestre qui ragazzi quindi non a livello annuale non su base annua ma il tasso di decelerazione per cui se il tasso di inflazione dimostra un meno due per cento rispetto a questo trimestre i mercati la prenderanno bene perché diranno che stiamo ritornando a un tasso di inflazione accettabile quindi la fed continuerà la sua politica ma non aumentando e rincarando la dose e questo nei mercati cripto è sentito molto 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 quindi è fondamentale ragionare così va bene ok ragazzi allora questa è la mia visione del dato di inflazione moro di fronte alle prossime mid term di novembre credi che biden si presenterà con questa situazione di recessione quindi perdendo parecchi poltroni oppure magari ci saranno rialzi più consistenti nei prossimi meeting pong per che potrebbero salvare salvare montanemente per poi ripartire verso il centro allora le mid term sono un problema per biden perché l'america non è che è nata ieri ragazzi allora intanto ragazzi biden è stato messo lì per fare questo quindi cioè non è che lui sta facendo probabilmente esattamente quello che doveva fare ragazzi non è la politica non è cioè soggetti di questo tipo non fanno errori sono messi lì a fare quello che sta facendo quindi lui doveva fare questa cosa qui poi perché per come per quando questo non è dato saperlo possiamo ragionarci insieme bebendo una birra ma in sostanza ci stiamo inventando fandoni e ragazzi magari ci azzecchiamo pure però non è nessuno di noi sa perché hanno intrapreso questa strada probabilmente vogliono inflazionare il mondo il debito il problema del debito era una scusa anche per rientrare mandando il mondo in recessione dando colpe a tizio caio visto il macello del coi non si sa ragazzi di queste cose nessuno sa nessuno sa niente ok allora questa la preferisco parliamo di cose serie sembrano yamaha ovviamente selmer che domanda mi fa vabbè ragazzi scusate questo è una domanda musicale e va bene e quindi insomma in sostanza io dico che nelle elezioni di midterm Biden farà i conti con quello che già sa quindi probabilmente se deve stare ancora qualche altro mese lo lasciano lì se non deve stare più faranno in modo sicuramente è stato un presidente degli stati uniti che sarà ricordato nella storia al momento perché poi ancora deve dare altre risposte insomma per un disastro totale questo è ovvio quindi sicuramente se lui non vuole lasciare questo lascito dovrà fare qualcosa perché ha distrutto una pace da 50 anni non hanno trovato linee politiche diplomatiche in sostanza chiacchiano ma poi non fanno nulla neanche in Ucraina disastro a livello economico visibile bla 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 sanzioni senza sé cioè tutte tutte cose strane non penso che sia una cosa casuale ecco questo è quello che vi dico quindi vi ripeto non è che queste cose nascono dall'oggi al domani secondo me e sarà un'elezione molto importante quella di midterm e andrà vista e andrà vista ciao trader l'importante è che bitcoin non lo tocchi secondo me in realtà bitcoin è già dentro il loro gioco io io ve lo dico chiaro ragazzi come l'ho già detto io negli stati uniti penso che ci sia grande volontà di farlo circolare però tutto quello che stanno costruendo è già un programma fatto qualche annetto fa quindi noi stiamo assistendo a una replica di un film non si muovono queste cose per casualità ragazzi la mia paura è poi dello stallo vabbè sì ci sarà un po di stallo ma non credo che i cani sanno già che fare ma a livello di mercato generale come siamo messi nasda che seppi vicino al botto andiamo lì a vedere va bene ragazzi questa prima fase diciamo eh dal punto di vista di inflazione vi ho detto la mia il mio modo di pensare analisi macroeconomica eh la tiro fuori questa roba acquita di studi di macroeconomia il mio dottorato in macroeconomia quindi ehm è anche un po' no? di creatività inventiva perché poi non di solo dati si vive perché poi non è così eh che il mercato cammina andiamo a vedere invece la questione dell'analisi ciclica eh che invece può essere interessante e vediamo anche la rispondiamo anche a Teone che ci ha parlato di Nasdaq S&P 500 per vedere un po' che cosa sta facendo intanto mettiamo su eh un il grafico eh del CME perché era quello che stavamo un po' eh valutando negli ultimi periodi e questo è il grafico ragazzi dell'analisi ciclica di Bitcoin contro eh dollaro del CME molto più pulito rispetto a quello spot che ha il giorno in più ancora una volta guardate il livello di resistenza questo minimo regge qui c'è stato un doppio minimo se siamo all'inizio di una fase del ciclo mensile perché in questa fase ci porta al nuovo ciclo mensile iniziato il trenta questo grafico eh per chi di voi ha un po' di dubbi andatevi a rivedere i miei video di lunedì eh perché è nel video di lunedì che spiego questo nuovo grafico che stiamo tenendo in considerazione e l'idea che possa essere misto eh e che possa essere diciamo un po' più seguito rispetto a agli anni precedenti mh quindi valutiamola sta roba qui ragazzi è è chiaro in maniera molto evidente anche agli analisti di analisi tecnica che un superamento di ventidue sette quattro cinque innesca comunque una fase di mini trend al rialzo però fin tanto che siamo all'interno di questo livello di minimo e questo livello di massimo questa è la terra di nessuno quindi in pratica qui succede up and down in pratica niente ragazzi ok trading e basta non fa nulla nel mercato è fermo però da punto di vista ciclico teoricamente questa è una seconda app una seconda gamba che potrebbe dimostrare che questo ciclo se è così costruito sul grafico del cme e quindi del future che sta chiuso venerdì e sabato potrebbe avere questo tipo di struttura quindi una forma ternaria con il massimo nella campana centrale o giù di lì e che quindi bitcoin potrebbe in sostanza tentare di riavvicinarsi ai ventidue fermo restando che se qui non è stato chiuso un ciclo superiore almeno un trimestrale o l'annuare ovviamente qui si va a ritoccare un nuovo minimo teoricamente questo è l'analisi ciclica quello che ci dice qualora qui invece non avessimo un nuovo minimo qui è iniziato sicuramente un nuovo ciclo trimestrale almeno poi per vedere se è stato un annuale bisogna vedere insomma anche la forza in questo momento è troppo tembile il mercato quindi non ci dà possibilità di vedere altre strutture se invece andiamo a guardare il nostro consueto grafico dello spot ci rendiamo conto che è un po' è un po' strano no questo tipo di differenza perché qui siamo in sostanza alla nella struttura di un ciclo mensile che già ternario vedete ed ha fatto la sua il suo massimo proprio al centro in questa fase quindi sembrerebbe proprio che questa struttura sia un po' più sporca però vedete è fatta così e che porti alla fine a un'altra fase quindi ho un po' paura ragazzi questo poi lo analizziamo meglio lunedì ho un po' paura che qui sia iniziato soltanto l'ultima gambetta di questo ciclo quindi in sostanza un altro dieci giorni lo sto dicendo in anteprima perché il video dell'academy lo faccio domani quindi non l'ho spiegato neanche in academy ancora questa cosa ragazzi però un po' l'idea è che da questa parte qui a qui sia iniziata dall'ultima gambetta quindi in sostanza non mi fido molto di questo rialzo seguiamo il trend eccetera tra l'altro le mie operazioni di long sono uscite la scorsa lunedì dopo l'ultimo ribasso quindi in stop loss questa volta infatti ho fatto un no comment perché prendiamo lo stop loss ragazzi va bene ok facciamo così soprattutto in questi periodi e basta vabbè ci sta ci può stare ci mancherebbe però da sempre fastidio e quindi in sostanza dal punto di vista ciclico questo rialzo io me lo fido ben poco ragazzi vediamo dove va è una barra di congestione al momento e quindi non è facile insomma dare delle strutture anche tiriamo uguale vedete ha la stessa identica struttura sembra proprio un ternario classico che dovrebbe essere più lungo per far combaciare poi la struttura ciclica a quella dell'altro grafico che è questo qui che invece vedete ha una struttura decisamente più lineare andiamo a vedere invece nasdaq che qui non abbiamo il dubbio se eseguire uno o l'altro allora c'è una domanda sulla ciclica la analizziamo quando dici che manca quanto dici che manca alla fine del ciclo mensile e allora ti faccio vedere delle date perché intanto te le faccio vedere qui le date allora qui se noi lo teniamo lungo accettabilmente in base ai cicli precedenti per esempio questa struttura ehm basata ovviamente non sulle shadow ma sulle close l'ho fatto così eh basato più o meno sulle close eh questa struttura ciclica ci porterebbe intorno al 5 agosto quindi alla fine del mese di luglio la chiusura di questo ciclo quella che invece è seguito la 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 struttura normale quella ehm eh facciamo così perché mi sa che ho fatto un danno cancellando un indicatore eh ok eh quella che è la eh la struttura qui ragazzi eh invece indica una fine del ciclo mensile tendenzialmente più vicina intorno al 25 di luglio c'è da dire però che pre nelle nei cicli precedenti bitcoin non è che abbia fatto dei cicli mensili puliti anzi li ha sporcati e non poco quindi qui non si capisce moltissimo la questione ora se andiamo a vedere un ciclo annuale che è iniziato a luglio abbiamo 186 giorni di semestrale più 182 che vanno a chiudersi il 23 però come ben sapete ragazzi già se arriviamo a 186 vedete siamo al 27 se a lunga di qualche giorno si va a eh diventare sinergico con quello che vi ho fatto vedere qui e quindi in pratica si livellano tutti entro la fine del mese di luglio secondo me il mercato tenterà questa strada cioè andrà eh a ehm sinergicamente ricercare dei minimi in chiusura magari non lisciato verso la fine del mese di luglio per unire sia la ciclicità del future del bitcoin sia la natura del eh invece mh compressiva di sabato e domenica dello spot eh un po' il dubbio è questo quindi mh questa struttura ciclica iniziata proprio il quattordici dovrebbe avere appunto una durata di quattordici quindici giorni per andare a fine mese di eh luglio a fare la naturale conclusione poi vediamo perché nelle fasi finali ragazzi di un ciclo importante come un annuale i cicli inferiori come i giornalieri settimanali e valgono tante e non quanto perché se spinge un nuovo annuale e vuole andare su è ovvio ragazzi che l'annuale è forte quei 40 50 punti al rialzo li può fare quindi insomma magari insomma ci dà un un po' di soddisfazione stare attento perché al momento di conferme non ce n'è neanche una quindi a andare a ragionare in questo modo in questa fase e vuol dire anticipare troppo i mercati e rischiamo di farci male ieri eravamo a 18 e 9 ora siamo a 20 e 3 il mercato sta producendo rumore oscillazione che solo un trader può sfruttare per chi vuole fare un investimento medio lungo anche di medio periodo in questa fase non c'è niente da fare ragazzi c'è solo holly flat e guardare e muoversi i prezzi solo al di sopra di 22 e 7 si può andare a ritenere un trend di medio periodo iniziale proprio gli altri perché non abbiamo coincidenze cicliche non abbiamo minimi nuovi non abbiamo niente abbiamo una barra di congestione ci potrebbe anche tentare una leggerissima strategia cioè quella di andare a comprare una fase bassa qui tipo 18 e qualcosa perché se vuoi scendere io vado a vendere con uno stop loss piccolo e quindi dire vabbè rischio poco tentiamo la fortuna una cosa del genere ma comunque ragazzi sostanzialmente è comunque una una fase di scommessa una scommessa di trend insomma ok allora duke dice accumulazione crederci fino all'albing allora non si fa così l'investimento è sicuramente simpatico dirlo perché crederci è figo ma è proprio il modo in cui perdi praticamente tutto in sostanza è meglio evitare di ragionare in questo modo potresti avere ragione x volte n volte nella vita eh però poi alla fine dei giochi questo mindset non ti premierà perché il giorno che sbagli è finita la giostra perché comprando con true trend il problema di fondo è proprio ragazzi che si va incontro alla cosiddetta eh processo di eh non ricordo mai il nome morte statistica non mi ricordo del tre non mi ricordo il nome perché in pratica una volta che i mercati scendono troppo recuperare eh i precedenti massimi che magari aveva accumulato diventa impossibile ok che i mercati cripto sono tecnologia però fino a un certo punto quindi io direi che hai ragione quando parli di dire è possibile ragionare in termini di accumulazione in questa fase sì è possibile perché siamo alla fine di un ciclo annuale però se anticipi troppo e il ciclo annuale ci fa due mesi e scende a ribasso e scende a diecimila dollari e insomma capito qual è il problema allora devi ricordarti questa cosa qui quindi possiamo anticipare però anticipare vuol dire rischiare tantissimo soprattutto contro trend quindi ehm giusto l'idea eh mindset no però quindi una cosa è l'idea l'accumulazione però con il mindset giusto cioè il fatto di essere consapevoli dei rischi che ti assumi se lo fai in un frangente del genere che è il modo giusto di ragionare una virgola di differenza che ti cambia però totalmente il tuo approccio nel lungo periodo tutti i fermi che avevo ad aprire il long c'è da aprire sto logo 100 x va bene ma la teoria dell'albing non credi che con questo macro possa non realizzarsi con questo assolutamente sì eh Buster e questo è il vero vero dubbio l'albing ragazzi non è una procedura automatica va bene gli albing precedenti di bitcoin non erano in un contesto macroeconomico attuale bisogna ragionare andando allora il mercato gritto è giovane ragazzi ehm chi ha esperienza nei mercati old allora sa usare questi periodi sa tradare questi periodi e sa stare sul mercato del genere se non se non avete esperienza sui mercati classici un periodo del genere non lo conoscete perché nei dati storici di bitcoin non c'è non esiste quindi tutto quello che noi andiamo a guardare precedentemente è un dato che non ha lo stesso contesto ok macroeconomico eh perciò andiamo a supporre che si ripeta uguale stiamo facendo un errore statistico se voi avete studiato statistica chi di voi l'ha studiata sa che andare a prendere un campione che non è più rappresentativo cioè i dati storici di bitcoin in passati eh e e piazzarli sul dato futuro è un errore palese di 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 matematico statistico ragazzi non si fa perché sottabbiate delle logiche quindi bisogna tenerne conto non vuol dire che i dati storici non li prendiamo più in considerazione quindi l'albing non avrà più effetto ma magari sarà smussato da un clima macroeconomico che gli toglie le fondamenta questo è il problema quindi noi dobbiamo andare a vedere questi nuovi dati che per la prima volta saranno visibili anche ai cripto investitori la prima volta ragazzi va bene questo è il discorso questo è quello che ci aspettano nei prossimi anni vediamo che cosa fa il mercato cripto così come abbiamo visto ieri come ha reagito all'inflazione ragazzi e vi ho dato le mie idee è la prima volta che abbiamo un'inflazione del genere è la prima volta che bitcoin ha pronto l'inflazione del genere capite è importante questo è un periodo molto bello del mercato cripto ovviamente periodi anche molto difficili per chi magari vuole stare qui senza appassionarsi ma solo per cercare di guadagnare due soldi pensando che trova la schedina e allora questo è il discorso ragazzi ragioniamo una cosa vabbè è la la scommessina del giorno il trade eccetera una cosa è ragionare conoscendo questi mercati io come sempre vi ho detto appassionatevi a questi mercati perché quello il vero lungo periodo se volete soddisfazione nel lungo periodo nella vostra vita da investitori in tutto quello che fate appassionatevi ai mercati finanziari studiateli i mercati finanziari ragazzi non pretendete guadagnare domani da un mercato finanziario allora quello vi vi dà soddisfazione nel lungo periodo è della vera soddisfazione quella che vi cambia la vita va bene allora detto questa manfrina eh poco diciamo produttiva che sennò poi mi picchiate e mi dite i grafici dell'ASDAQ allora andiamola a vedere l'ASDAQ ehm io ci tengo a a spiegare delle cosette perché so che magari poi alla fine dei conti ragazzi qualcuno di voi non tutti qualcuno di voi userà queste informazioni perché gli si accenderà la lampadina e la sua vita cambierà allora eh ognuno di noi no ha ha un insomma a me fa piacere se qualcosa del genere avviene e sono contento di contribuire ovviamente so che è impossibile eh eh farlo con tutti però con quelle persone che magari sono un po' più recettive più logiche su certe cose e e perché non dargli magari eh un'informazione in più allora andiamo a vedere questa cosa qui Nasdaq ecco come è messo allora ragazzi non sembra vicino alla chiusura dell'annuale ehm perché mancherebbe un pochino ragazzi allora vi faccio vedere il daily eccolo qua allora la questione della coppa c'è non è che non c'è la stiamo vedendo vedete qui ma manca ancora una gambetta ragazzi non mi piace più di tanto perché non me la fido in questo momento a dirvi che questo può essere il minimo di Nasdaq intanto è trentadue non è uno sciacquone era il minimo livello di volatilità di cui avevamo parlato qualche mese fa quando vi ho detto Nasdaq è entrato in territorio negativo e quindi a un annuale negativo scende e basta quando vi ho detto questa cosa eravamo a quarantotto mila mi pare di bitcoin insomma ragazzi c'erano dei dati di livello qui invece i dati non sono precisi perché poi abbiamo fatto la stima del livello di ribasso trentadue punti sembrava il minimo perché poi si estendeva anche molto più in basso perché abbiamo parlato di un 40 qui e addirittura un 50 e passa qui sotto ora 50 mi sembra un'esagerazione e però ragazzi un pochino più giù vicino al 40 sarebbe forse l'ideale no di questa fase qui ora detto questo il discorso di Nasdaq significa che scende ancora probabilmente l'influsso proprio la parte ribassista forte probabilmente è terminata almeno per quest'anno però un attimo di riflessione per salire sul carro io lo farei non vi nascondo magari un giorno faremo possiamo anche fare non so una live dedicata solo al mercato old perché non vi nascondo che io sul mercato old è da un anno e mezzo due che sono quasi flat quasi flat ragazzi ho pochissimo su qualche tf ed un piano d'accumulo attivato perché non volevo comprare niente proprio perché lo ritenevo molto caro e quindi andare su un tipo di mercato del genere per me non era un momento corretto non sono entrato neanche adesso se proprio volete sapere la cosa continuo del pack quello lì che ha una funzione differente l'ho iniziato proprio da un annetto perché quel pack lì ragazzi si fa proprio nelle fasi decrescenti del mercato siccome non ho tempo di andare a fare ciclica e analisi dettagliate sui mercati old ho dedicato la strategia più consona è quella più semplice che è appunto la dca la dollar cost average al mercato dei old sui etf perché ragazzi non tempisticamente non ce la faccio quindi mi adatto ad una tempistica personale mi adatto una strategia inefficiente come quella del pack però almeno una strategia sensata magari la sto facendo in base a delle logiche sensate quindi quello che poi probabilmente quando e se avremo toccato i minimi secondo me per quanto mi riguarda io aspetto un altro anno di vedere che succede poi lì magari mi ritaglio qualche mese e agisco per fare stock picking di 15 anni allora che insomma allora magari dedico 5 6 mesi per fare quello ragazzi perché ha un senso ce l'ha ok quindi al momento andare a fare stock picking in questa fase di mercato lascia un po' il tempo che trova perché se i mercati non hanno sbrogliato tutta la fuffa che c'era che cavolo la faccio fare che non so che succede fra un paio d'anni quale industrie saranno messe bene le cripto dove sono tante cose da vedere io attendo ragazzi come come un pescatore attende il pesce e non lo rincorre secondo me questo qui è un momento da attendere poi vi dico se dovesse andare a breccare come bitcoin identico la da un punto di vista di analisi tecnica dovesse andare a breccare questa fase qui allora potrebbe innescare un nuovo trend e magari dare una maggiore indicazione che questo minimo il minimo del ciclo annuale di nasdaq però fin tanto che non abbia una cosa del genere secondo me è prematuro perché in realtà i tempi tecnici ci sono proprio per fine agosto cioè di fare l'ultima gambetta così chiudere questa coppa questa tazza e poi magari fare una nuova fase di accumulazione che segue magari un nuovo tipo di trend una cosa del genere va bene qui siamo già nel 2023 giusto per capirci ehm attendo quindi questo mese e seguo eh dinamicamente quindi per me eh per me eh questi mercati al momento si affrontano così eh ripeto è un mio consiglio non è un mio consiglio ragazzi perché io sono molto prudenziale e sono estremamente ehm un trader estremamente ehm eh trend follower cioè non mi piace anticipare in nessun modo quindi non ho il problema di comprare sui minimi quindi eh adattatevi perché spesso io entro molto tardi sul mercato e e questo è personale ok ognuno di noi ha la nostra il nostro modo di agire ragazzi va bene eh detto questo eh direi di andare a fare poi un briefing invece su delle coin che mi sono piaciute tanto in questa fase vi faccio vedere qualche grafico ne abbiamo parlato l'altro giorno e vi avevo fatto vedere i grafici del eh gli ultimi grafici che avevo mostrato cioè quelli eh delle cripto quelle iper speculative che erano assolutamente da eh stare molto molto attenti quindi quelle ai rischi alcune di quelle stanno eh muovendosi in maniera interessante ve le rifaccio rivedere ma poi ne aggiungo un'altra invece che è una top cap che mi piace tantissimo ehm ciao eh allora cosa ne aggiungo di Matic era proprio di quella che volevo parlare e ragazzi quindi eh aspettate due minuti perché è proprio Matic che entra eh e che è di oggi ne ne parliamo anche appunto di 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 questa cripto tra le altre cose ho aperto un trade ma proprio trade ehm un longhettino che eh stavo guardando proprio recentemente su Matic ma una cosa da niente ragazzi è un'operazione giusto per divertirmi oggi però la chiudo e entro breve va bene eh però l'ho l'ho aperto proprio per fare un po' di di non lo so a chi io ragazzi ogni tanto ho bisogno di rimettermi a fare qualcosina che mi piaceva fare tempo fa invece di fare video ogni giorno allora questa cosa qui vedete eh questo è Arwave eh ed è interessante perché sta anche lei performando seguendo questo trend invece Storgei vedete ha fatto questa fase si è eh livellata lì mentre Enz è interessante perché anche dal mio qui vedete dopo il video è riuscita a recuperare quindi sta facendo un bel giro e la stessa identica teta e e TRB eh che è ferma ancora sotto questo livello ma attenzione perché entrambe tutte queste coin sono strapiccole quindi riguardate il video su quelle coin su queste coin ragazzi perché è un video importantissimo in quanto se non sapete che cosa stiamo dicendo è che sono iper speculativa e iper manipolabili quindi non vi permettete di andare a prendere questa roba eh se non avete visto quel video e soprattutto vi ho spiegato in quel video che è solo trading questo e non c'è nessun tipo di eh possibilità che sia eh che che sia eh diciamo gestibile attraverso position almeno non al momento allora andiamo a vedere invece Matic perché interessante è stato su Matic la sua struttura di prezzo ed è proprio a un livello che secondo me la fa di entrare mh per eccellenza fra queste cripto eh in questa fase proprio perché guardate un po' che cosa ha disegnato allora una struttura di eh eh inversione interessante che però presenta il suo vero livello di eh resistenza a 0.6869 questa cosa interessantissima perché c'è proprio in questo momento sopra ed è vicino ora abbiamo una forma anche che ciclicamente è un po' diversa dalle altre e vi dico la verità ehm probabilmente questa fase di Matic è una fase di breve periodo che non dovrebbe durare tanto comunque ciclicamente vi faccio vedere questa cosa qui allora sembrerebbe aver chiuso una struttura ciclica da trecentotrenta giorni e quindi in sostanza mancherebbe un ultimo pezzettino ragazzi che porterebbe questo tipo di ehm annuale lungo su Matic su Polygon a settembre quella che era la più eh di cui abbiamo parlato qualche volta ma che allunga molto i tempi ragazzi e cioè è come se questo tipo di eh grafico avesse fatto un ciclo in questo modo così è una M con le due gambette una e due questa struttura ciclica è la più famosa al mondo per chi sa la struttura ciclica ed è molto comune ragazzi quindi potrebbe essere iniziato in sostanza un nuovo ciclo eh trimestrale qui e Matic sarebbe l'unica che sta dando questo segnale e ciclo che poi porterebbe vedete a novanta giorni alla chiusura totale del movimento annuale su tutti i mercati che a quel punto saremmo più o meno ehm nella fase giusta ora questa cosa va valutata ragazzi perché intanto anche se supera questo livello non modifica questa struttura cioè se anche Matic arriva qui sta semplicemente disegnando sembra che stia disegnando il suo massimo di questa struttura ciclica lo valutiamo insieme è un'anomalia che potrebbe darci delle indicazioni interessantissime però anche su Bitcoin ed Ethereum perché proprio se questa cosa avviene è difficile che non sia la stessa forma ciclica anche su Ethereum e probabilmente lì non si vede bene ma qui si vede meglio quindi io la tengo sotto stretta osservazione è una coin interessante al momento sono entrato long per un'operazione di trading giornaliera in intraday eh ieri avevo tentato uno shot e è andato in stop oggi ho ripreso un long per recuperare in pratica le perdite guadagnarci qualcosa guadagnando qualcosa al momento ma è trading ragazzi quindi mh sinceramente non ne parliamo neanche che non ha neanche senso parlarne qui perché sono operazioni troppo veloci e infattibili sto seguendo come indicatore il super trend su questa operazione quindi chi di voi magari vuole qualche chicca di approfondimento sto seguendo il super trend in questo caso perché se va a spaccare questo livello di resistenza probabilmente un super app lo fa quindi ci tira su magari lo il flash pump e perché no si posiziona in questo punto che potrebbe starci ecco perché super trend perché in questa fase super trend potrebbe essere interessante in quanto il mercato se fa il break Matic fa un flash pump e quindi super trend non viene toccato non mi da falsi eh segnali in questo momento quindi veramente interessante una cosa del genere va bene allora detto questo passiamo alle domande anche perché fra pochi minuti eh vi devo lasciare ragazzi quindi eh e ci siamo allora intanto spara delle domande ok ragazzi benissimo eh andiamo un po' a vedere ok allora Enrico dice che questi giorni è dato da dalle news developer luna che si spostano su poligon disney lo sceglie per fare broccene eccetera sì esatto insomma e corrisponde più o meno a questa view che ti ho detto cioè le i rialzi delle news ragazzi intanto disney comunque è una cosa grossa comunque i rialzi delle news sono anche frutto eh di eh momenti poi però il mercato ritorno nella sua naturale fase quindi qualora eh dovesse ritornare alla sua naturale fase potrebbe magari rientrare in fase di bassista ecco perché un po' starei eh attento allora Andrea dice che Polis ha fatto il minimo eh Polis Polis eh quale guardiamo guardiamo il grafico su FTX ma è un disastro questa cripto quindi ehm boh non so prei ti dico francamente vediamo un po' se riusciamo a guardarla vediamo il long non no non c'è niente in una cripto del genere solo trading e basta intradabile per il resto quindi eh diciamo se vuoi farci trading va bene per il resto va studiato tutto quello che è in base al progetto perché è una cripto che ha fatto una perdita eh del eh novantasette novantotto per cento cioè di tutto in pratica quindi non è ehm questa fase rialzista al momento è una correzione come può essere questa quindi è la stessa quindi mh solo trading una cosa del genere non ha nessun altro cioè non vado a comprare io una cripto che fa meno novantotto per cento soprattutto senza storico devi riconoscere molto bene il progetto allora stai ancora utilizzando nexo? Sì sto utilizzando nexo eh sembrerebbe che nexo abbia ancora tanto da dire ehm poi ragazzi su questo alla la verità è che bisogna essere oggettivamente ehm cioè ognuno si deve assumere le proprie responsabilità direi così perché la questione è difficile da comprendere su nexo abbiamo quei dati dei loro ehm depositi che possono essere facilmente visionati da Armanino ehm e quello è un'utilità ehm non hanno fermato withdrawal non hanno bloccato i pagamenti e tutto il resto il token nexo è fondamentale tanti anni fa tanti anni fa forse no comunque un annetto fa ho fatto un video dove spiegavo come si valutavano le eh se fai e cos'era giusto andare a controllare per evitare problemi di schiaffoni in faccia uno di quei parametri era proprio l'andamento del token rispetto a Bitcoin e in effetti dovremmo andare a controllare il token nexo eh rispetto a a BTC e questo è il suo andamento quindi ha avuto una eh fase diciamo di di ritracciamento rispetto ai massimi rispetto che erano qui di contro Bitcoin ed è sceso del 45 per cento rispetto a a Bitcoin dove era prima però sui massimi di Bitcoin però come vedi in sostanza non è che tanto cioè siamo in questa struttura una specie di barra di congestione ovviamente è un token di una sefai quindi giusto per farti vedere la differenza ti metto il Kronos ehm contro Bitcoin per farti vedere ecco la la struttura dalle fasi di massimo per esempio Kronos Bitcoin è vero che è salito molto di più però è sceso un poco un pochino di più però in sostanza è come se fosse simile all'andamento di CRO non ci vedo un andamento pericoloso come era per esempio quello di di Celsius che è stato adesso vabbè recuperato però è stato eh rispetto ai massimi è stato giù del novantasette per cento qui è in questa fase dell'ottantasei per cento quindi anche adesso a livello di come adesso rispetto ai massimi siamo comunque a meno settantasette cioè ci può stare ragazzi poi Celsius abbiamo visto che ha ha restituito i debiti di quelli della sefaisum eccetera della defaisum eccetera però il linea di massima eh io ancora sto ragionando così su su nexo va bene andiamo avanti eh ciao ciccio non scrivere troppi messaggi altrimenti poi ti dobbiamo bannare ehm perché intasi troppo la chat eh ok allora non pensi che il mercato non sia eh in contratto ancora del tutto che possa avere i picchi di scesa ne abbiamo parlato poco fa ehm tutta la radisi di oggi è basata diciamo su questo abbiamo parlato anche della ciclica quindi eh se hai visto la 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 live dall'inizio eh hai già risposta a questa domanda e non è paragonabile a a nulla al millenovecento ventinove anzi non c'entra assolutamente niente perché il millenovecento ventinove è stato una fase di bassista eh in cui le banche centrali non avevano nessuna condizione di causa e non erano riuscite e non riuscivano a controllare eh i mercati rispetto ad oggi non c'entra niente che la fase sia molto critica è vero ma nel ventinove c'è stato la bank run nel mondo quindi c'è stato quello che hai visto sull'una in pratica eh hanno tolto la liquidità quindi eh paragonare un un anno come il ventinove a l'attuale e proprio non c'entra niente ragazzi niente perché questa eh non è una fase di eh crash dovuta al fatto che l'economia non va bene eh non c'è depressione ragazzi c'è inflazione questo è uno shock inflattivo non c'entra niente con il ventinove è è più vicino agli shock petroliferi degli anni ottanta del settantotto mi sembra una cosa del genere ma nonno a a un a una crisi di bolla speculativa con il ventinove cioè non non è non c'è non siamo in problema di bolla qui eh perché i mercati le banche centrali li stanno gestendo molto bene quindi li fanno scendere controllati in maniera controllata non c'è al momento questa fase poi non ci vedo somiglianza non so perché tirano fuori il ventinove ogni tanto ragazzi ci può stare però non non mi pare che insomma ci sia questa somiglianza a livello macro cosa ne pensi dell'entrata in recessione dell'america ormai scontata dal mercato ciao trader allora l'entrata in recessione dell'america penso che i mercati l'abbiano già scontata eh ma davvero ragazzi questa è anche la commenta perché va bene penso che insomma sì posso ridere per 40 secondi così è il vero commento a questo ma ma davvero perché eh come vai eh diciamo era stato messo lì per fare qualcosa insomma ragazzi Mauro cosa pensi dell'entrata in recessione dell'america ormai scontata e dal mercato eh penso che eh la recessione il mercato quello che guarderà sarà il fatto che questa recessione sia controllata allora gli stati occidentali hanno accettato praticamente di entrare in recessione facendo le politiche sanzognatorie nei confronti della Russia e i macelli senza senso che al momento sono senza senso poi probabilmente hanno un senso nascosto che non sappiamo non ci hanno comunicato e quindi ehm l'idea di fondo è probabilmente accettare la recessione per danneggiare eh la Russia se non sono addirittura d'accordo ragazzi perché io vi lo dico proprio chiaro cioè molti dubbi su tante cose quindi bisognerebbe in effetti ragionare un po' in pratica è l'accettazione dell'inflazione e della recessione di conseguenza però eh c'è anche da dire che una recessione dovuto a un'impennata del del pil dei prezzi così ampia e l'accettiamo perché non è una spirale recessiva questa è una recessione indotta per controllare l'andamento dei prezzi il problema è se non lo controllano poi la recessione avviene però se non lo controllano l'andamento dei prezzi succede un disastro quindi ragazzi peggioramenti della guerra eh chiusura di riserve importanti eh entrata ehm da fazione a poste di paesi produttori Cina in primis che farebbero impennare ulteriormente i prezzi dei beni perché la Cina produce bene i consumer ragazzi oltre che business ovviamente però anche dal lato consumer non non allora ok la materia prima ma se poi entra anche dall'altra parte la questione delle sanzioni su la produzione cinese che cioè fa alzare i prezzi anche per dire non so ragazzi delle scatole degli oggetti e vestiti di qualsiasi cosa succede un disastro cioè e questo è il discorso allora quelle sono eh le eh situazioni che secondo me devono assolutamente essere eh controllate ma bene quindi questo io la vedo così eh secondo me i mercati la recessione attuale la una recessione controllata un po' il tubo intanto Sir Felix eh Draghi di messo in si dimette in diretta ovviamente continua dopo quarant'anni non so neanche più quanto la manfrina italiana di non avere mai un governo stabile e fare questi cambi di governo ragazzi fatevi il conto quanti governi l'Italia ha avuto veri che hanno governato realmente per quattro cinque anni senza cambi di casacca senza inversioni di ministri e senza ambaradin ambaradan e eh la spiegazione del nostro paese degli stati del nostro paese è sempre la stessa cioè problemi di instabilità politica che tutti conoscono tutto il mondo finanziario conosce da trecentomila anni Draghi uomo insomma di di altissimo spessore economico è il dubbio questo messo per fare delle roba che neanche noi abbiamo capito ragazzi nessuno ha capito sinceramente eh finito di fare quello doveva fare l'hanno mandato a casa sempre il solito problema mi dispiace a me mi dispiace questa cosa però eh inutile perdere tempo a parlare di cose che di cui ormai praticamente conosciamo vita morti a miracoli eh l'ha detto ha detto che darà le dimensioni forse si è seccato di di parlare a bambera al microfono si vedeva tra l'altro ragazzi come parlava non gliene fregava una cippa di quello che diceva palesemente si è seccato ha detto io me ne vado ma che ci sto a fa qua va bene va va bene va bene va bene va bene ok ragazzi eh Borsa di Milano giù a picco ma attenzione perché secondo me anche questo magari un baio dei dip ci starebbe da trader perché era un assenso ragazzi anche questo tanto è tutto controllato quindi ma io sarei molto attento una cosa del genere ci speculano sopra poi vediamo finiamo male e noi finisce l'Europa praticamente questo ormai lo si sa e andiamo a vedere tra l'altro in in eh diretta anche com'è impattato per esempio sulla questione del dell'euro ecco qua future euro dollaro ragazzi andiamoci a guardare carina questa cosa guardate che disastro il cicli del del dell'euro ragazzi guardate qui questo è il maxiciclo dell'euro euro contro il dollaro eh bruttino perché ragazzi è un maxiciclo gigantesco che ha breccato il suo minimo quello del duemilasedici qualche giorno fa teoricamente porta la sua naturale conclusione nel duemilatrenta e qualcosa in questo modo ovviamente non una linea diritta eh ci mancherebbe ragazzi che sarà oscillerato non so fare una cosa del genere allora questa la buttiamo lì poi se sono ancora qui nel duemila e che che è questa data qui duemila trentadue l'andiamo a guardare insieme ragazzi apro la barba bianca duemilatrentadue tra dieci anni col cavolo che sto qui no scherzi a parte ma magari ci sono che ancora più vabbè allora trend ribassista euro dollaro e visto male vediamo questa dimissione di Draghi si è avuto impatto e questa settimana è bruttina settimana scorsa meno due meno due anche più o meno questa vediamo oggi qualcosina forse la la sta anche accusando vediamo eh in tempo reale insomma ecco questa è la candela dell'ora e probabilmente questa è l'effetto Draghi vedete questo candelina oraria che insomma niente di che ovviamente no però anche su questo ragazzi vedete se ci fossero veri pericoli magari fallimento Italia o che che sia quest'euro così lo sta cioè quello crollato certo insomma un meno zero tre in un'ora in un'oretta e l'effetto Draghi questo sicuramente va bene dice addirittura un minuto mi consiglio il grafico un minuto vediamo il grafico un minuto sull'euro intanto questo è vero un euro vale un euro è vero è vero ma non in base al dollaro ok ecco l'effetto Draghi e della dimissione del 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 dell'annuncio del del primo ministro italiano eccolo qua uno due tre su euro dollaro e siamo a meno zero tre e meno zero tre e beh ci sta a meno zero tre ragazzi qualche miliarduccio quindi ci sta abbiamo visto in diretta vediamo che succede e ha toccato la parità qui l'euro dollaro eh praticamente oggi pomeriggio e vediamo ragazzi è una situazione interessante e da andare a a monitorare vedete ha fatto eh questa la candela daily brusco ribasso non vi nascondo che io personalmente eh detengo praticamente solo eh dollari qualche euro ce l'ho ma più che altro dollari e cripto in dollari quindi dollari pratica mh non lo vedo bene per l'euro ancora e non vi dirò non sono neanche in procinto di fare shopping o roba del genere perché questo grafico mi porta ancora qualche qualche settimanina settimanina cioè fino a fine anno aspetto un po' vediamo un po' in caso magari prendiamo qualche dollaro e vediamo va bene ragazzi allora io ci sto ehm ho dato perché devo lasciarvi che eh ho un appuntamento e intanto allora eh vediamo Dari che dice eh che setting hai su supertrend allora io il supertrend lo setto in base al momento il al al time frame e alla cripto in questione quindi in questo momento te lo dico in diretta su eh Matic ho utilizzato un supertrend particolare molto più allargato con dei parametri che sono 17 e eh il fattore ho messo 3.7 ma è intraday a time frame 15 minuti questa operazione ed è anche attualizzata al fatto che Matic in questa fase è molto volatile ma io soprattutto volevo stare molto più dare molto più spazio quindi ho aumentato il multiplo eh purtroppo Dario non c'è modo di spiegare come si settano i parametri senza fare dei corsi perché non è non esistono dei parametri di default se non sai come settarli usa quelli di default quindi nel caso supertrend mi pare che sia 10 o 12 il periodo è il fattore il moltiplicatore 3 usa quello e basta perché tanto se non li sai modificare cioè fai più danni che altro quindi questo è va bene ok ragazzi ci siamo eh detto fatto e noi ci rivediamo nella prossima live fatemi sapere come sempre cosa ne pensate della mia view di bitcoin inflazione trimestre trimestre il prossimo trimestre tasso di accelerazione dell'inflazione sotto i lente di ingrandimento vediamo che succede per me è interessante questo modo di vedere eh delle cose va bene ragazzi ok intanto tre mi dice maro cosa ne pensi da TR velo sopra la TR è il mio indicatore preferito dopo l'RSI quindi insomma insieme a TR quindi numero uno a TR bella matica qualche giorno fa mi ha fatto entrare in stopolosa e poi ha fatto ah eh questa non te lo cioè accettalo perché soprattutto le cripto con grande volatilità ti becca uno stop e col cavolo voi vabbè comunque eh ragazzi va bene allora noi ci rivediamo nella prossima live grazie a tutti e eh eh bye bye lasciatemi qualche domandina come sempre sotto il i video quando li pubblico anche su eh sull'altro sull'altro ciao ciao a tutti ciao a tutti